e siamo giunti alla seconda del convegno solo femmine di tre anni sul miglio otto in prima quattro in seconda in dodici corsa apertissima ora un po' la zietta con gallo in salchi la più gettonata un saluto violento e affettuoso a claude una colonna di flor do caffè claudio grande amante dell'ippica e ci segue tutti i giorni prende velocità la macchina genobia gallo lungo i birilli tenta di difenderli all'attacco della piegata si elimina subito la zietta che tentava di partire forte intanto le due sono ancora in lotta con genobia gallo che non demorde gli rientra anche il quattro a tabellone tredici e sei a partire e siamo al completamento della piegata con genobia gallo leader che completa i quattrocento in ventinove e quattro si è accodata a zelambia e così a precedere le altre viene via zero girl par e il francesino punta in avanti con la sua targata par e va a sollecitare zenobia galla seicento in quarantasei cavalli che affrontano la piegata si migliora anche la leva di maisto questa zacax che ha corso bene l'altro giorno cavalli al completamento del mezzo miglio iniziale mezzo miglio in uno un e sei quindici e sei di frazione zenobia gallo sotto la minaccia di zero girl par poi la zelandia poi zacax che caratterialmente ancora si deve fare chilometro che se ne va in sedici e tre torna alla carica zero girl par ci sposta a zelandia per non rimanere chiusa le cavalli affrontano la curva finale ma la zenobia gallo regge ancora con il buon piccione si elimina zero girl par cavalli al completamento e la curva finale retta d'arrivo ora c'è lotta per la vittoria zenobia gallo lungo i birilli un po' in affanno e viene via la grande zelandia e zelandia sta passando su zanna bianca poi il nove di zandalì facile zelanda secondo è il buon pippotto capasso co zandalì due un e sei un e sedici zelandia sempre ben guidata andiamo a rivedere questa immagine vedete il primo piano sette quarantuno faceva scuderia con l'otto zucca del sile vince nel più facile dei modi spettatrice interessata del duello tra la zenobia gallo e la zero girl par nove per il secondo tre per il terzo è tutto linea a gabriele e pierfrancesco che saluto perché è la prima volta che ho avuto il momento giusto per salutarli